Eccolo, il grande errore della mia vita. Non esistono, non ci sono colpevoli a debolezza. I miei eccessi possono essere modificati in questo caso. Se non mi riconcilio con tutto questo, non capirò mai come un quadro così bello sia stato l'occasione di un gesto così. Turbe, siamo stati svergognati. Ho il cuore a pezzi. A volte il maligno si serve anche delle buone intenzioni per volgerle al male. Sì, però adesso devi ingressare ancora un po', poi vi do qualcosa da portare anche a Roma. Ma il maiale ce l'avete ancora? È già salsiccia, l'hai assaggiata, è buonissima. Ho perso la mia figliola. Queste due la pezza non me li prendi. Non ti avvicinare, l'hai toccata. Le portate. Non ti avvicinare. Come stai? Va bene, ti ricordi Alberto quando qualcuno ti diceva come va Alberto? Mi do... E tu? La marca giusta, no? Non ti dico il tempo che ci ho messo, Marco. L'editore ci ha voluto dare... Sai tutto, tu. Poi ci sono i professoroni, non capiscono niente. Vero? Quando mi ha detto che avrebbe frugato nella vita privata di Lorenzo, mi sono spaventata. Avevo paura che mio marito scoprisse tutto. Anche lei aveva una relazione con Lorenzo Pugiali? Sono stata una pazza a scrivere quelle lettere. Ero terrorizzata dall'idea che le avreste trovate prima voi. Doveva aprire tra due settimane. Ci siamo impegnati con artisti, agenti... Le opere che ti hanno rubato, che cos'erano? Tre Ruiz. Uno degli artisti più quotati attualmente. Mamma! Uno degli artisti più quotati. Uno degli artisti più quotati.